Raccontiamo un po', lo ha spiegato l'assessore, ma raccontiamo quali sono effettivamente le vostre difficoltà anche all'interno degli appartamenti. Il problema è, parliamo fuori, scendendo dalla scalinata che come siamo ridotti non è stata mai pulita, mai trattata, le luci che sono sempre accese 24 su 24, nonostante tutto ci mandano delle parcelle condominali esorbidanti che io, da parte mia, gli sto dando un po' la volta pagando mens in mens quello che posso dargli perché una palazzina del genere e io dovrei pagare 4.600 euro di condominio, non so che cosa mi stanno dando. Dopo mi dicono sempre, ma le luci che cosa consumano? Tanto sono tutte all'Aid. E io perché devo pagare un euro in più per le luci accese che voi non le spegnete? L'interno, i garage sempre allagati, esternamente si vede come siamo ridotti, noi siamo degli sfollati, maltrattati pure siamo, da tutti quanti, l'Ater, Atena e soprattutto l'amministratore che si è fatto vedere qui una sola volta, dopo manda solo le parcelle da pagare, paga. E uno in queste condizioni pensa che non si può vivere più. L'ultima cosa è successo ieri sera, che ci hanno staccato la corrente, senza avvisare e senza dire niente. Io, ringraziato Dio, sono giovane, tra parentesi, comunque sono giovane. Ci sono le vecchiette che ci sono altre, senza riscaldamento. Sai che vuol dire? Qui c'è il primo piano, hanno oltre 80 anni, ma stamattina posso che ritrovami invernati. Non mi sembra una cosa giusta che stacca la corrente, anche se noi siamo morosi. E dopo un'altra cosa, la corrente internamente degli appartamenti, noi la paghiamo, tutti paghiamo la corrente. E noi per accendere le luci dentro casa dobbiamo andare sulla centralina, perché l'interruttore fa parte del condominio, ma dove sta scritto che deve fare parte del condominio? Quando io la corrente con sei bolletto ho pagato 1600 euro di corrente, la bellezza di 450-500 euro ogni due mesi. Perché? Perché questi hanno fatto i lavori male, non ci stanno i fotovoltaici, ci hanno messo tante cose che ci mancano su questa palazzina. Non va bene, non si può andare avanti più in questo modo. O fanno qualcosa, o ci spostano, se no che ci ha adesso i soldi, noi ce ne diamo in affitto.